Ciao a tutti, mi chiamo Marco, vengo da Vicenza e oggi sono qui a Palermo, è il secondo giorno che sono qui con la mia ragazza, Silvia, e stiamo visitando la città, siamo arrivati ieri sera, abbiamo girato alcuni quartieri, come la buceria, è una bellissima zona perché è molto giovane, è molto animata, soprattutto la sera, ieri sera, il sabato, e ho notato che in mezzo a questa piazza e questi vicoli, dove di solito durante la settimana si snoda il mercato, ieri sera c'erano un sacco di locali, di bar, che davano quelle distese verso le strade, verso i marciapiedi, e tutti i ragazzi versati in strada, sulle piazze, che prima mangiavano su dei tavoli, appunto su questa piazza comune, che utilizzavano tutti quanti i gestori assieme, e poi liberavano la piazza e si incominciava a ballare con i vari DJ set, e è stato molto bello e suggestivo. Siamo in nostro viaggio alla scoperta del centro di Palermo, per poi spostarci nei prossimi giorni a Favignana, per vedere le varie isole Egadi, e fare dello snorkeling, e quindi nuotare, vedere i fondali, e ammirare quello che fa una marina, e da qui in poi continueremo il nostro tour. Volevo salutarvi, vi consiglio di venire a Palermo e visitare questa stupenda città, molto suggestiva, e veramente particolarissima, avrete modo di scoprire, di mischiarvi con le persone del posto, e di scoprire tante cose nuove, per quanto riguarda chiese, i vari quartieri, i quattro quartieri, e vi consiglio di venire qui e di visitare Palermo in tutto il suo splendore. Un saluto a tutti e buon viaggio!